Ben ritrovati gentili telespedatori, nuova edizione del telegiornale del Veneto orientale. In apertura subito parliamo di cronaca, andiamo subito a sentirci allora il primo servizio. L'ospedale unico è un'idea abbandonata da anni, questo territorio ha bisogno di due presidi a Porto Gruaro e quindi la città resta strategica per evitare l'immigrazione verso altre strutture fuori regione. Lo ribadisce il presidente del Veneto, Luca Zaia, che in visita insieme al direttore generale della US4, Carlo Bramezza, al sindaco di Porto Gruaro, senatore, presidente della Zinago Holding, Stefano Marzotto e molti sindaci ed esponenti politici del territorio al cantiere della Recovery Room, la nuova complanare al primo piano dell'ospedale finanziata con un milione di euro dalla famiglia Marzotto. La struttura, il cui progetto esecutivo è stato donato dalla Sending Green Global Service di Ceggia, accoglierà un massimo di sette pazienti che necessitano di un monitoraggio continuo dei parametri vitali nell'immediato periodo post-operatorio. Tutte le postazioni avranno un'aloga dotazione di un posto letto di terapia intensiva e potranno essere utilizzate in caso di emergenze per accogliere pazienti affetti da Covid-19. I lavori dovrebbero essere inaugurati a fine anno. Ringrazio Stefano Marzotto perché sin dall'inizio della pandemia, ha detto Zaia, ha voluto essere al nostro fianco nella lotta contro il virus. Oggi, con 120 recovery e 6 pazienti in terapia intensiva, non dobbiamo affrontare un'emergenza sanitaria. Chiediamo però ai cittadini di osservare le regole basilari sulla mascherina, il distanziamento, l'igienizzazione delle mani. La regione si sta attrezzando per portare i posti letto di terapia intensiva da 464 a 1016, e tra un mese ci sarà un'importante novità che andrà a migliorare ulteriormente dal punto di vista tecnologico, la diagnostica. Stiamo lavorando anche per dare vita autonoma all'ospedale di Porto Gruaro e con il direttore generale stiamo pensando ad un master plan per dare più spazio alla struttura che resta un punto fermo della sanità veneta sia in chiave turistica che per la difesa delle fughe extra-regionali. Il sindaco ha consegnato a Zaia Marzotto una coppia della pergamena che è stata interrata sotto un monumento realizzato per ringraziare quanti si sono adoperati per affrontare l'emergenza sanitaria. Se si lavora in squadra, detto Marzotto, è più facile uscire dalla crisi come queste. La mia famiglia è presente in questo territorio dal 1935. Siamo felici di aver contribuito a questo progetto. Assieme a Bramezza e al vescovo di Concordia Pordenore, Giuseppe Pellegrini, che ha benedetto gli spazi, Zaia ha poi inaugurato il nuovo reparto di Day Week Surgery realizzato ristrutturando l'ala ovest al primo piano grazie alle risorse ricavate dalla vendita dell'ospedale vecchio. Nel reparto, sul quale sono stati investiti 960.000 euro, ci sono 16 nuovi posti letto, tra letti e poltrone tecniche. Sono inoltre presenti tre ambulatori medici e un ambulatorio chirurgico attrezzato per l'esecuzione di interventi. Considerando l'attività erogata nel corso del 2019, ha detto Bramezza, i pazienti che potranno essere trattati nella nuova unità operativa in regime di ricovero saranno circa 2000. Il blitz è scattato nel corso della notte a Jesolo. La polizia arresta otto giovani di nazionalità nigeriana con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, marijuana e ashes. Tutti sono stati trasferiti in tribunale a Venezia per il processo per direttissima che si è concluso poi nel pomeriggio con l'invio chiesto dai difensori in attesa dell'esito degli esami della droga. Trattandosi di modiche quantità, la procura non ha potuto chiedere la misura cautelare del carcere, ma solo il divieto di dimora in Veneto. La polizia, coordinata dal sostituto procuratore di Venezia, Alessia Tavarnesi, controllava da giorni i movimenti degli indagati e ha raccolto prove dell'attività di spaccio anche grazie a un agente sotto copertura che si è infiltrato fingendosi cliente ed ha effettuato alcuni acquisti di droga. Una volta acquisiti gli elementi necessari, sono scattati gli arresti di feriti. Normalmente questo tipo di procedura viene adottata nel caso di grandi quantitativi di stupefacente, di traffici internazionali che possono essere sgominati soltanto raccogliendo le prove un po' alla volta. E in questo caso la procura di Venezia ha ritenuto di avalersi degli arresti di feriti per poter sgominare l'intera rete di spaccio che attiva sulla piazza Jesolana, in quanto operando attraverso singoli arresti al momento dell'avvenuta cessione di droga non sarebbe riuscita ad incidere in maniera complessiva sul fenomeno, con il rischio peraltro di non riuscire a trovare più una parte degli spacciatori che si sarebbero dati alla fuga nel caso dell'arresto di uno di loro. L'operazione su Jesol è stata programmata per dare una risposta a una situazione di spaccio al dettaglio sempre più consistente, complice, la forte presenza di turisti e vacanzieri e la voglia di divertimento e sballo ricercata attraverso l'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti. Lo spaccio aumenta perché siamo più elevati alla richiesta soprattutto da parte dei più giovani, in molti casi si tratta di droghe leggere, marijuana, hashish, ma sono in molti a fare uso anche di cocaina, nonché di pastiglie di droghe sintetiche usate in particolare nei locali notturni, nei luoghi della movida più scatenata. Cocaina e droghe sintetiche che peraltro provocano gravi danni permanenti alla salute di chi ne fa uso e continuo e in quantitativi consistenti. I rischi non frenano però il consumo e fanno aumentare il numero di spacciatori che riempiono le strade creando problemi di ordine pubblico e senso di insicurezza nei cittadini. Gli investigatori di Iesolo sono intervenuti anche con un drone per mettere a segno il blitz. Il punto focale della movida è stato il panorama perfetto per gli spacciatori nigeriani che provenivano da Torino, Trento, Vicenza e Padova e che hanno trovato sul litorale un punto d'incontro con una elevata domanda di sostanze stupefacenti. Truffa in pieno centro a Meduna, la ladra va a segno e scappa con una collanina d'oro. A pochi metri dal luogo del furto c'è il complice che la tende in auto. Lei sale e i due sgommando. Fanno perdere le proprietà, c'è poco dopo, sparendo a tutta velocità in direzione di Pordenone. È accaduto l'altra mattina in via Vittorio Emanuele nelle vicinanze del centro a un tiro di sasso dalla piazzale centrale. La vittima, una residente che in quel momento si trova in giardino, è stata avvicinata dalla ragazza che è riuscita con una scusa ad avvicinarsi a strappargli la collanina d'oro. A lanciare l'allarme è stata l'amministrazione comunale che ha immediatamente diramato un identikit della ladra. Attenzione, appena segnalato furto a persona in via Vittorio Emanuele, una ragazza robusta con capelli lunghi si è avvicinata a un residente della zona che nella sua proprietà gli ha strappato la caterina d'oro per poi direguarsi in via San Bellino a bordo di una macchina grigio scura, forse blu, una Dacia oppure una Renault Clio. Immediata la chiamata da parte della vittima alle forze dell'ordine, sono quindi arrivati i carabinieri ma la ragazza aveva già fatto perdere le proprie tracce. La segnalazione all'amministrazione comunale era stata inoltrata da un altro residente che abita a poca distanza dal locale negozio di biciclette in via Vittorio Emanuele. Una signora ha spiegato avvicinato un residente che si trova nella sua proprietà. La donna è rimasta al di là della rete di recinzione e ha adocchiato con la collanina d'oro che indossava il malcapitato. Con una scusa l'ha avvicinato e poi, poco dopo, gliela strappata con forza per poi allontanarsi in tutta fretta. Appena dopo il ponticello, vicino al capitello, c'era una complice che la tendeva al volante di un'auto blu. Sgommando, hanno fatto perdere le proprie tracce. I carabinieri sono stati avvertiti immediatamente. Una pattuglia è a corsa a Meduna e si è fermata anche in un'altra abitazione, poco lontano, perché ci sarebbe stato un altro furto. Una serie di furti era stata segnalata poco distante, anche in via Postumia, verso Mure, non più tardi dello scorso weekend, mentre l'ultimo alternativo di truffa della Braccio in provincia era stato segnalato qualche giorno fa e era andato a segno ai danni di una signora che era stata avvicinata da una ragazza che l'aveva seguita all'uscita da Messa. Venezia-Portogruaro, Trenitalia, ripristina i treni serali, finiti i lavori sul Carso, niente più bus sostitutivi per raggiungere Trieste. Erano mesi che i pendurari lo chiedevano a gran voce e adesso finalmente le loro istanze, pare, siano state accolte. In risposta alle segnalazioni dei viaggiatori, Trenitalia ha fatto sapere che verranno ripristinate le corse serali notturne da Venezia. Come si ricorderà, gran parte dei treni erano stati soppressi durante il periodo del lockdown, poi alla riapertura sono stati ripristinati i convogli giornalieri, ma le corse serali e notturne da Venezia invece erano ancora ferme. Attualmente l'ultimo convoglio parte alle 22.09, troppo presto per i tanti lavoratori del Veneto orientale impegnati nel turismo a Venezia. Dal prossimo 13 settembre l'orario dovrebbe essere ripristinato integralmente, con l'ultima corsa in partenza da Venezia poco dopo la mezzanotte, alla mezzanotte e 9 minuti. Intanto da sabato finiranno i disagi per chi dal Veneto orientale si deve spostare verso Trieste a regolare la circolazione dei treni fra Bivio d'Aruisina e Trieste centrale. E' terminato infatti l'intervento di consolidamento della parete rocciosa in prossimità del Bivio sul binario in direzione del capoluogo Giuliano, a reggiosi necessario a seguito del movimento franoso dello scorso 22 giugno. A partire dall'8 luglio, per sette settimane consecutive, circa 60 uomini impegnati su più turni nell'arco delle intere 24 ore hanno operato su un fronte lungo 1,2 km per una superficie di 9.000 m2 di costone roccioso. 4 milioni e mezzo di euro l'investimento complessivo di rete ferroviaria italiana. Problemi idraulici di prossima esecuzione nel territorio di Gruaro, nelle zone di Milimitrofe. Se ne è parlato nella sede comunale di Gruaro, dove si è tenuta la riunione in cui sono stati illustrati i progetti che saranno anche di prossima esecuzione, nonché le problematiche idrauliche nell'area ricompresa nel bacino del fiume Lemene. Alla riunione, oltre alla Regione Veneto e Friuli Venezia Giulia, con la Direzione Difesa del Suolo e Genio Civile, erano presenti il Comune di Gruaro, quello di Sesto a Reghena, i consorsi di bonifica del Veneto orientale e Cellina Meduna. Si è discusso delle cause che hanno reso necessarie le opere di difesa idraulica che il soggetto attuatore degli interventi di cui l'ordinanza alla Protezione Civile Nazionale del 2018, appunto per gli interventi della Tempesta Vaea, sta realizzando nel Comune di Gruaro. Si tratta di due grossi interventi. Lo scolmatore di Gruaro per un importo dei lavori di 600 mila euro e gli argini del Versiona peraltro mezzo milione di euro, che divengono le acque del Versiona nell'Emene a salvaguardia degli abitati di Gruaro. Nella riunione si è aggiunta anche una visione condivisa dei problemi e delle soluzioni ipotizzate con la manifestata volontà dei presenti a proseguire la collaborazione. Ferragosto tutto esaurito a Iesolo, presenza di stranieri vicino al 50%, con prevalenza di ospiti di lingua tedesca, settembre con l'incognita meteo e prenotazione sottodata. È la sintesi del bilancio tracciato dall'Associazione Iesolana-Albergatori per quanto riguarda l'occupazione alberghiera. I dati delle rilevazioni Itch Bankmark hanno fatto registrare percentuali da quasi tutto esaurito nelle due settimane centrali di agosto, con un 100% raggiunto nella notte tra sabato 15 e domenica 16 agosto. Complessivamente i dati dei primi 25 giorni di agosto risultano essere in linea con quelli dello scorso anno, meno 0,8 punti percentuali di occupazione, a fronte di un calo molto contenuto dei ricavi mediocamera. La presenza di straniere è stata di media del 46,2%. Nella prima settimana di agosto gli straniere hanno superato gli italiani, anche con punte del 65%, suddivisi con il 15% in Germania, 11,8% Austria, 7,2% la Svizzera. Per quanto riguarda l'ultimo fine settimana di agosto, la previsione è per un'occupazione dell'88%, ma molto dipenderà anche dalle condizioni meteo che in questo momento non sembrano favorevoli alla vacanza in spiaggia. La tensione è ora concentrata tutta sul mese di settembre, soprattutto i primi 15 giorni del mese, ha spiegato il presidente dell'AIA, La stazione albergatori Alberto Maschio saranno importanti per definire l'andamento complessivo di questa stagione, così particolare che fino ad ora ha risposto forse meglio delle aspettative, con una Iesolo che ha confermato la sua leadership nell'ambito delle località turistico-balneari dell'Alto Adriatico. Fare delle previsioni in questo momento è particolarmente difficile, anche in considerazione della tendenza di quest'anno, di prenotare molto sottodata. Da questo punto di vista molto dipenderà anche dal meteo, che potrà condizionare la scelta dei turisti, soprattutto quelli oltre confine. Quest'anno, inoltre, ci verranno a mancare i gruppi che contribuivano molto nella coda di stagione. Nel 2019 siano registrati dei picchi di occupazione a metà settembre di quasi il 98%, complici anche alcuni importanti eventi, come lo Iesolo Air Show con l'esibizione delle frecce tricoloni. E gli eventi in programma quest'anno, conclude Maschio, almeno al momento non sembrano in grado di creare quel tipo di aspettative e di rappresentare un vero volano per il fine stagione. Pur capendo che, in alcuni casi, condividendo la difficile situazione nella quale sono state fatte alcune valutazioni e prese determinate decisioni, una puntuale condivisa programmazione sarebbe stata utile per creare un certo tipo di lavoro, che gli eventi, ora in calendario, non stanno però garantendo. Siamo a Porto Baseleghe di Bibione, siamo in un convegno Interreg Italia-Croazia, un convegno legato all'ecosostenibilità. Ecco, questo convegno è rivolto a proprietari di barche, a turisti nautici, personale, professionale e tecnico, fondamentalmente a chi un po' si diverte nel mare anche, no? Diciamo. Ecco, lei che ruolo ha all'interno di questo progetto, ma soprattutto che ruolo ha lei, che è un professore poi dell'Università di Ferrara, nei progetti delle coste? Io sono un geologo e mi occupo dei litorali, variazione da morfologia all'idrosedimentaria e tutti gli interventi che in qualche modo possono sostenere questi ambienti e se volete anche sostenere l'economia di questi ambienti. Siamo passati inizialmente, nei primi anni, a una struttura massiccia con massi diffuse in tutta quanta Italia e oggi si cerca di tornare indietro, di cercare delle strutture difensive e protettive, le cosiddette strutture green, le strutture verdi. Verdi perché in qualche modo riescono anche a sopperire all'inalzamento del livello del mare. Oggi ho presentato proprio un esempio dove noi possiamo unire l'economia circolare, cioè si usano i rifiuti, in questo caso erano i gusci dei molluschi, per creare delle strutture green che servono per migliorare gli habitat che poi vengono colonizzate con le ostriche, le quali producono un miglioramento ambientale, una riduzione della CO2 e nel contempo un beneficio all'economia delle località in cui si mettono questi interventi. Località marine del Friuli Venezia Giulia e del Veneto al top durante i weekend estivi. I caselli cosiddetti balneari infatti sono quelli che registrano un incremento dei flussi in uscita rispetto allo scorso anno. Durante l'ultimo fine settimana il casello di Latisana ha registrato addirittura un più 7% nella giornata di sabato e più un 1% nella giornata di domenica. Udine Sud segna l'incremento più vistoso più 20% in uscita più 76% in entrata a dimostrazione che sono soprattutto turisti locali a muoversi da e verso il mare e la montagna. In aumento pure Sanstino di Livenza in direzione Caorle e Meulo da dove il traffico si dirige verso la Treviso Male in entrambi i casi più 2%. In i locali transiti in uscita Trieste e Lisart meno 17% e Villesse meno 39%. I due caselli attraverso i quali passa il traffico diretto verso la Croazia in più in generale tutte le località della costa d'Almata. In questo ultimo weekend di agosto si assisterà alle ultime partenze e alla seconda tranche di rientri. Sull'andamento del traffico peserà però il maltempo previsto nelle giornate di sabato e domenica. In considerazione del meteo sulla base dei dati registrati da inizio luglio Autovie Venete ha previsto per sabato un flusso compreso tra i 138.000 e i 144.000 transiti mentre quelli per domenica 23 sono compresi tra i 126.000 e i 132.000. La società autostradale ha previsto anche il rinforzo degli esatori in particolare i caselli di La Tisana Sastino e San Donati Piave tra i presidi di soccorso meccanico La Tisana, Palmanova e Udine Sud fondamentale poi il ruolo della Croce Rossa italiana incaricata di svolgere i presidi sanitari nei pronti strategici dell'autostrada ai piazzali di San Giorgio di Nogaro e di San Donati Piave i volontari della Croce Rossa affiancati all'occorrenza da infermieri sono pronti a prestare soccorso su indicazioni del centro radioinformativo di autovie in caso di incidente un primo aiuto indispensabile attivo durante questa fase di esodo e controesodo dalle 10 alle 20 Autovie ricorda infine che è in vigore nel fine settimana il divieto di transito per i mezzi pesanti dalle 8 alle 16 di sabato e dalle 7 alle 22 di domenica 30 agosto Emergenza sanitaria e protocolli anti-covid in arrivo il cambio sede per gli studenti della scuola elementare di San Giovanni a Motta gli scolari della Manzoni infatti saranno costretti a una trasferta e inizieranno un anno scolastico nella sede del capoluogo le 5 classi dell'istituto saranno trasferite da Aleandro di Motta ha dichiarato il primo cittadino Alessandro Righi l'edificio della frazione di San Giovanni non garantisce infatti i parametri di distanziamento richiesti per contrastare la diffusione del covid-19 visto che la scuola rimarrà vuota approfitteremo del periodo per eseguire una serie di lavori per l'efficientamento energetico della struttura la amministrazione comunale in ogni caso garantirà il trasporto scolastico agli alunni fino al capoluogo ossia fino alle scuole sempre che le modalità di trasporto scolastico saranno rese note a breve dal governo inoltre a livello di attrezzature la scuola è già pronta ha concluso il sindaco abbiamo già provveduto a consegnare tutti i banchi e sedie nuove alla Leandro e a cablare tutti gli edifici per garantire l'utilizzo di tutti gli spazi possibili però c'è un però rimangono diverse le incognite che il governo non ha ancora definito nei minimi termini e non sono dei dettagli da poco anzi in primo luogo dobbiamo capire quale sarà la capienza prevista per il trasporto scolastico se non confermeranno la possibilità del 100% della capienza sarà molto difficile garantire il trasporto verificando molti interventi fatti in tempi rapidi da comuni e provincia per garantire la ripartenza a questo aggiungiamo anche il problema che l'organico a disposizione delle scuole si saprà solo a settembre fortunatamente per quanto ci riguarda per gli arredi abbiamo provveduto in autonomia e sono già stati consegnati se chi di competenza si prendesse la responsabilità di decidere tutti noi potremmo concentrare gli sforzi per garantire la ripartenza senza spendere risorse umane economiche alla cieca e non è la prima volta che gli scolari della scuola elementare di San Giovanni furono costretti a spostarsi qualche anno fa per lavori strutturali non più rinviabili vennero spostati nell'ala più recente della scuola media Girardini il cui ampliamento si era concluso solo qualche mese prima stavolta invece il trasferimento sarà alla primaria Leandro fino a quando sarà deciso solamente dall'andamento dei contagi l'occhio delle telecamere è puntato su diversi punti strategici del paese stanno infatti per essere ultimati i lavori di ampliamento dell'impianto di videosorveglianza e di lettura targhe finanziati con fondi ottenuti nel 2018 dal Ministero dell'Interno che erano stati appaltati ad ottobre dell'anno scorso e che rispetto al progetto iniziale in seguito a ribasso d'asta hanno consentito al Comune di potenziare ulteriormente l'impianto in particolare verranno installate telecamere multisensor al parco Anna Franche di Camemo in cui si erano verificati atti vandalici e schiamazzi notturni e alla intersezione tra via Piave via Roma e piazza Vittorio Emanuele abbiamo voluto valorizzare ha detto il sindaco Claudio Marianne oltre agli aspetti relativi alla prevenzione e repressione di reati e di leciti amministrativi anche quelli di protezione civile posizionando alcuni dispositivi di videosorveglianza per il monitoraggio del fiume Piave facendo tesoro di quanto emerso durante gli ultimi eventi di piena a conclusione dei lavori di finanziamento ministeriale di 102.000 euro consentirà di aggiungere 8 telecamere di ultima generazione e 5 nuovi varchi di lettura targhe alle apparecchiature di controllo già esistenti l'amministrazione comunale è sempre stata molto attenta alla sicurezza accogliendo tutte le possibilità di finanziamento sia statali che regionali aggiunge Marianne ringraziando la polizia locale per l'ottimo lavoro svolto e questo ci ha permesso di costruire un sistema di videosorveglianza di tutto rispetto collegato con il comando dei carabinieri di Sandonà è predisposto per interfacciarsi con i programmi in uso alle altre forze di polizia siamo stati tra i primi nel sandonatese continua il sindaco di 90 a credere nella utilità dei varchi di lettura targhe installandoli già nel 2016 e non ci siamo fermati stiamo infatti attendendo la valutazione della legione sul nuovo progetto che abbiamo presentato lo scorso giugno che prevede la sostituzione dei ponti radio con la fibra una telecamera di videosorveglianza sull'argine del Piave a Romanziol una al cimitero e due varchi di lettura in altri siti gli scatti dal territorio con Vinicio Scortegagna i nostri servizi i nostri live li trovate sulla pagina Facebook di Media24 ci fermiamo con questa edizione torneremo con le altre nel corso della giornata rimanete con noi alla prossima